È un testo strano, strano perché nasce come una commedia più classica da vaudeville proprio con una tematica anche se vuoi vista e rivista che è quella del tradimento, della menzogna, delle coppie incrociate eccetera ma in realtà poi la scrittura è tutta un'altra cosa è molto più profonda di quello che il testo potrebbe sembrare all'inizio ed è proprio uno scandagliare l'animo delle relazioni, della coppia in maniera molto molto senza lasciare nulla al caso è quasi imbarazzante la verità in cui scrive questo signore che si chiama Zeller che è uno dei più rappresentati in Europa adesso, è un autore che va per la maggiore e se lo merita perché scrive veramente bene e poi sa passare da uno stile all'altro, ho visto altre sue commedie ho letto anche altre cose e sembrano quasi non scritte dallo stesso autore e comunque è bello stare qua perché è la prima volta per me io sono la prima volta a teatro nuovo, ero andato sempre a Ferrara, ero venuto spesso ero andato sempre al comunale, poi questo teatro così giovane, così bello, così nuovo sa di fresco però c'ha già un sapore di un teatro antico e questa è una bella cosa, il teatro ha bisogno di far trasparire il sapore di qualcosa di antico qui c'è, sono sicuro che farete delle stagioni meravigliose ringrazio tutto il pubblico che so che è tantissimo oggi, immeritatamente di lunedì sera, nonostante ci sia la partita della SPAL che quest'anno si deve salvare e quindi grazie, grazie davvero